educazione e la comunicazione ambientale è veramente immensa, un vasto argomento oltretutto anche trasversale. Cerchiamo allora di capire quali sono i risultati della giornata di ieri, una giornata che ha portato alla realizzazione di una carta sull'educazione ambientale e sviluppo sostenibile che sarà data al ministro Galletti, al ministro Giannini come contributo da parte degli stakeholder di questo settore, ma non solo, sarà un lavoro propedeutico a tutti quelli che hanno a che fare con la comunicazione ambientale. Ne parliamo insieme a Sergio Sichense dell'ARPA Friuli Venezia Giulia, benvenuto. Ciao Sergio. Sergio che tra l'altro è stato anche un rapporteur, quindi colui che fa la sintesi dei lavori dei tavoli anche 16 anni fa a Genova, quindi hai anche una visione diciamo di quella che sono stati i risultati della prima conferenza e di quelli che invece sono stati i risultati del lavoro di ieri. Infatti ho anche gli occhiali in più che 16 anni fa non li portavo. Non si vedono in questo momento. Sono qua, adesso li userò. Sì, allora innanzitutto grazie, ringrazio il sottosegretario De Gani per avermi dato la possibilità di poter relazionare rispetto al lavoro ricchissimo che c'è stato ieri. Molti dei colleghi da portare sono qui in sala, molti dei partecipanti ai tavoli. È stata una giornata estremamente interessante. Le modalità rispetto a Genova sono state diverse, ma rispetto a Genova abbiamo avuto più contributi da parte di pezzi diversi, diciamo, della società civile, delle organizzazioni, delle organizzazioni governative. Infatti erano più di 200 persone tra istituzioni locali, nazionali, persone che si occupano di educazione, associazioni non governative, rappresentanti della ricerca, rappresentanti delle aree protette. Davvero tutti quelli che hanno a che fare con l'educazione e con la comunicazione ambientale. Sì, in più direi che c'erano tutti i consorsi di filiera. Cioè era una cosa estremamente interessante. Rispetto a Genova questo è un punto fondamentale. C'è stata un'evoluzione proprio nella società in cui noi ci siamo accorti dove i grossi problemi ambientali hanno anche prodotto forze sul territorio, realtà organizzative che insieme al governo stanno riuscendo a fare delle proposte operative di risoluzione dei grandi problemi ambientali. Quindi abbiamo avuto proprio un salto, una differenza sostanziale da questo punto di vista. E si è vista nei tavoli. Io ho preso degli appunti, chiaramente non potrò nei pochi minuti che ho a disposizione sintetizzare la ricchezza dei contributi, ma questo è fondamentale. Saranno comunque pubblicabili e disponibili, giusto, sottosegretario? Dove li troveremo? Sul sito del Ministero dell'Ambiente, sicuramente, insieme poi all'accordo che verrà firmato. Quindi saranno una serie di elementi, di contributi molto importanti che potranno, io ritengo, non solo verificare qual è la ricchezza che c'è stato in questo dibattito e quindi dare significato e senso alla attività che si è stata avvolta ieri, ma anche come supporto a quello che poi sarà l'impegno che il Governo italiano assumerà nel campo di educazione ambientale. Infatti, tra l'altro io proprio in questa cartelletta, un riassunto del lavoro di ieri che ha prodotto questa carta e la consegnerò ai Ministri più tardi. Allora, che cosa è uscito fuori da questi tavoli? Allora, sono uscite fuori diverse cose. Allora, prima di tutto, come dicevo prima, i tavoli erano, diciamo, stati immaginati come tavoli misti, nel senso che c'erano un insieme di persone. Cioè, per capirci, il tavolo della biodiversità non aveva soltanto esperti di conservazione, biologi o aree protette. Diciamo che non era un tavolo di ecologi in senso stretto, c'erano appunto i contributi da parte di molte realtà. Mi viene in mente perché ieri poi col sottosegretario si discuteva anche tutto il mondo dell'editoria, che è un pezzo fondamentale, che noi abbiamo ovviamente accolto, che per esempio a Genova non c'era. E proprio la presenza nei tavoli ha determinato e definito quale è stata anche l'evoluzione culturale nel Paese sui temi. Una volta l'editoria, in senso stretto, non è che non si occupava di questi temi, ma non aveva, non stava nella società. Una specializzazione. Sì, diciamo che la società ha restituito al mondo dell'editoria, e dicevi tu, al mondo della comunicazione, per esempio questa tematica. Qui, per esempio, la comunicazione è stato uno dei grandi temi che è stato trattato all'interno dei tavoli. Questo grazie alle nuove tecnologie, ovviamente, che hanno visto un proliferare di siti e blog dedicati proprio alle tematiche ambientali. Diciamo che si è anche dibattuto sulla contraddizione. Totalmente, le fonti non sono sempre attendibili, ragazzi, attenzione al web. Da questo punto di vista. Ma anche è stata vissuta come una ricchezza. Cioè, c'è una necessità all'interno dell'educazione ambientale di non dimenticare, e non poter far finta di dimenticare le nuove tecnologie, ma creare anche gli strumenti attraverso cui interpretare ciò che le nuove tecnologie gli danno. E qual è anche l'obbligo. Si parlava ieri, per esempio, di una piattaforma che potrebbe raccogliere, diciamo, anche le migliori e buone esperienze. Questo è un compito molto importante, perché nell'epoca della comunicazione digitale, nell'epoca di quello che io chiamo l'ecosistema comunicativo, sicuramente c'è un grande bisogno di ritrovare dei punti di riferimento. Uno dei punti che sicuramente sarà uscito è quello di aggiornare costantemente questi confronti, perché la comunicazione, così come la società e il mondo, è in continuo mutamento. Tra l'altro, un mutamento sempre più veloce. Quindi, quello che vale oggi, magari non vale tra tre anni addirittura, senza parlare di quello che valeva sedici anni fa. Esatto. Allora, questo è un punto nodale. Cioè, è importante avere una comunicazione orientata attraverso le buone pratiche. Io provengo dal Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, che fortunatamente, grazie al Governo, grazie all'impegno di ASSOARPA, ha realizzato una recentissima legge di riorganizzazione del sistema. E uno degli obiettivi fondamentali all'interno della legge è la presenza dell'educazione ambientale, non a caso, aggiungo io, e soprattutto la presenza di una comunicazione che crei autorevolezza, soprattutto nei dati ambientali che noi andiamo a fornire. Quindi uno sforzo del Governo congiunto di avere un sistema nazionale, che vuol dire a livello regionale e l'ISPRA a livello nazionale, che fornisca fondamentalmente degli strumenti anche per realizzare le politiche del territorio. Questo è emerso chiaramente, soprattutto perché c'è stato un rilancio fondamentale del sistema nazionale. Cioè abbiamo avuto da Genova e anche prima un sistema nazionale che negli anni 90 e negli anni 2000 è stato studiato spesso anche da altri paesi, in quanto c'è un impegno governativo, cosa che in altri paesi non c'è, questo rilancio passa anche attraverso il rafforzamento di una rete dove l'autorevolezza ambientale del sistema nazionale della protezione ambientale determina sicuramente un cambiamento di paradigma. Che consigli hanno dato per superare la difficoltà comunicativa dell'ambiente, ovvero la sua connessione con tutti gli aspetti della vita? Beh, insomma, poni una domanda. È il nodo di tutto. No, sicuramente rispetto a Genova i temi fondanti si sono ripetuti, nel senso c'è una grande necessità di capire e di ridefinire qual è il campo dell'educazione ambientale. Ieri per esempio nel mio gruppo che si occupava di un tema molto interessante anche per la comunicazione, cioè il superamento della frammentazione tra educazione formale, non formale e informale, soprattutto ci si è incentrato su due temi interessanti. Il primo, la grande ricchezza dei territori come elemento vivificatore delle proposte e anche come elemento dove si confligge la complessità ambientale. Una volta si parlava di educazione ambientale come educazione alla natura, che comunque rimane un paradigma interessante, ma oramai per esempio le periferie delle città ci stanno restituendo alcune drammatiche situazioni dove bisogna ricostruire quelle che vengono chiamate i cosiddetti nativi ambientali, che spesso non hanno un contatto con una realtà che è soltanto naturale. Quindi c'è la complessità dei territori, il primo elemento. Il secondo elemento fondamentale è il governo del sistema, nel senso che c'è bisogno di capire e comunque di interrogarci su quello che sarà, tu hai richiamato la necessità di rincontrarsi in qualche modo, ma di rincontrarsi attraverso un'organizzazione che ci consenta di fornire delle risposte da un lato politiche di governo e dall'altro dei caratteri di contenuti. Un altro tema che sicuramente avrete toccato è quello relativo agli stili di vita, nel senso che una volta che si comunica quelle che sono le problematiche ambientali e quella che sarebbe la visione di futuro sostenibile, tutto questo si deve tradurre poi nelle azioni quotidiane che tutti noi, più di 7 miliardi di persone, facciamo sul pianeta. E anche questo è un altro passo da fare culturale, perché tutti siamo d'accordo sul salvare il pianeta, ma come lo faccio nella mia quotidianità? Ecco, esatto. Chiaramente gli stili di vita oggi risentono di modelli sociali ed economici molto forti, questo mi sembra evidente. Un tema che è emerso, che ho letto anche all'interno dei contributi fondamentali che i colleghi che sono qui presenti hanno fornito, è il discorso che oggi la realtà sociale è in profonda trasformazione. Pensiamo soltanto alle periferie che spesso si vanno a ingrossare rispetto a quelli che sono tutti i fenomeni migratori. Dove c'è ovviamente portare culture diverse. Ecco, questo tentativo di rendere coerente gli stili di vita è chiaramente un'altra sfida culturale su cui si va assolutamente affrontato. L'altro discorso degli stili di vita è stato detto in numerosi tavoli, che non basta più o non basta ancora realizzare una buona conoscenza dei contenuti ambientali, ma bisogna lavorare anche sul lato emotivo. Il lato emotivo da Genova, e anche molto prima posso dire, è comunque rimasto un tema interessante, fondamentale, portante e di grande senso e natura. Quindi i due aspetti, l'aspetto cognitivo in senso stretto e l'aspetto emotivo direi, la parte emozionale dentro cui noi agiamo, costituiscono un unicum all'interno del portato educativo che noi dobbiamo mettere nei territori. Amore nei confronti della vita, rispetto della vita, che molto spesso da giovani nasce nel rapporto con gli animali. C'è sicuramente questo, questo è in dubbio, ma c'è sicuramente il discorso di rispetto degli altri. Non si può realizzare un processo educativo che nasce dentro la società se non c'è un discorso di rispetto degli altri. L'altro elemento fondamentale è sicuramente quello della partecipazione. L'Unione Europea ha più volte richiamato questo discorso. I processi partecipativi oramai costituiscono, come potrei dire, un impegno ineludibile per il futuro. Infatti tra i tanti punti, mi sono letta tutte le dodici basi di lavoro, dei dodici tavoli, in ogni c'era la voglia e la volontà di portare i giovani ad essere parte attiva del cambiamento nella società civile proprio, non soltanto nel proprio modo di essere. Esatto, parte attiva nel senso che si sdogana un po' l'idea che bisogna raggiungere la maggiore età per poter essere in qualche modo portatori di una propria idea. Oggi tutti quanti, per questo è ritornato il discorso dei territori, siamo tutti quanti fortemente impegnati a capire come i nostri comportamenti, i nostri stili di vita, i nostri consumi, senza nessuno escluso, costituiscono fondamentalmente un elemento pregnante affinché la modificazione, la trasformazione di cui stiamo richiamando, Mr. Thompson prima parlava per esempio del cambio, dei drammatici problemi dei cambiamenti climatici, non nascono soltanto dalle grandi, fondamentali decisioni a livello internazionale, ma nascono da ognuno di noi e soprattutto dalla partecipazione di ognuno di noi all'interno dei processi trasformativi. E è stato ribadito in tutti i tavoli l'educazione, è un punto centrale in questo, non può far parte soltanto delle politiche ambientali o delle politiche dell'istruzione, deve far parte delle cosiddette politiche di sistema. Un altro concetto che va comunicato, va compreso a livello proprio di cuore, è quello del limite. Viviamo su un pianeta limitato, non possiamo pensare di consumare all'infinito. Sì, ecco, soprattutto in un tavolo, il tavolo 2, è stato ribadito e sottolineato il discorso del concetto del limite. Sono anni, credo che chi come me, come la Michela Maier, come molti colleghi qui presenti abbiamo dibattuto, il concetto del limite è un concetto fondamentale, non solo dal punto di vista ecologico, che comunque viene definito in un paradigma di carattere scientifico, ma è il concetto dei limiti di ciò che noi possiamo fare, come dire, della capacità di portanza del pianeta. Non è un concetto, come dire, solo teorico, esistono proprio delle buone pratiche, dove il concetto dei limiti diventa esso stesso un punto fondamentale. E rientra in un altro elemento che è stato molto presente nei tavoli, il discorso delle competenze. Avere le competenze, diciamo, all'interno del quale si lavora, per esempio, col senso dell'incertezza, io personalmente lo chiamo col dubbio, cioè con le domande che ci poniamo, come tutti i ricercatori si pongono, perché noi comunque siamo dei ricercatori, nel senso che andiamo a ricercare quali i sensi e i significati del nostro agire, il concetto del limite salta fuori, come potrei dire, a ogni piesso spinto. Bisogna capire che il pianeta ha un limite, ma anche noi stessi abbiamo una responsabilità di capire e comprendere quel limite, perché quel limite ci aiuta a comprendere quali sono le buone pratiche da attuare. Quali sono le altre differenze rispetto alla conferenza che si è tenuta 16 anni fa a Genova? Beh, quello che dicevo prima è sicuramente fondamentale. Cioè il fatto che il governo che ha e i ministeri che hanno organizzato questa conferenza hanno dato voce a una pluralità di persone. L'altra volta invece? L'altra volta non è che non ci fossero, il discorso è che eravamo 16 anni fa, che i problemi ambientali, diciamo, i problemi dell'educazione ambientale erano sicuramente cogenti, ma non erano a questo tipo di livello. Quindi, secondo me, il punto fondamentale è che nei tavoli, nonostante il tempo limitato che abbiamo avuto, però il lavoro è stato molto serrato, ho visto poche persone che si sono alzate, cioè c'è stato questo grande impegno, quello di poter ascoltare molti e quindi di raccogliere, diciamo, i suggerimenti, ma anche in un certo senso gli allarmi che possono venire dai mondi più diversificati. 16 anni fa, per esempio, la presenza delle imprese era molto più limitata, oggi parliamo di educazione nelle imprese, oggi parliamo di formazione nelle imprese o di formazione rivolto, per esempio, alle pubbliche amministrazioni, cioè a coloro che poi sono deputati fondamentalmente. Noi come sistema nazionale delle protezioni ambientali abbiamo nel nostro DNA questo tipo di impegno, e non da oggi posso sottolineare, dove ovviamente ci confrontiamo tutti i giorni con quelli che sono i portatori di interessi del territorio. Le ARPA e l'ISPRA agiscono sempre ai confronti del territorio, dove si intercettano imprese e portatori di interessi, ma anche la società civile. Quindi, rispetto a Genova, quello che io ho potuto leggere è un caleidoscopio di presenze che è stata sicuramente intercettata, ma allo stesso tempo è emersa dalle necessità che questa società ci sta presentando, un po' ci sta presentando il conto. Però c'è anche un vantaggio, perché si è parlato anche di lavoro, che non è proprio una cosa indifferente. Infatti, questa è una domanda che ti volevo fare. Un po' di anni fa, con Marco Gisotti, che saluto, che è qui in sala, ho fatto il primo libro sui green jobs in Italia, e già, sto parlando di sette anni fa, si vedeva che la tendenza della green economy avrebbe portato tanti posti di lavoro in Italia. E così è stato. Stiamo parlando di tre milioni di lavoratori e le imprese che investono in tecnologia e innovazione in green sono quelle che stanno andando meglio. Sì, allora, sicuramente, e questo è una delle grandi differenze, sono passati 16 anni non a caso, a parte gli occhiali personali, ma questo è un discorso. Ci vogliamo vedere a questo punto. Ok, dopo facciamo la foto. No, al di là di questo, sicuramente sì. Diciamo che noi lo vediamo dal punto di vista educativo. Cioè, la presenza di un forte monto imprenditoriale, la presenza comunque di domande che si pongono al mondo imprenditoriale, dove i processi di trasformazione determinano le economie locali, i territori, devono tenere conto che c'è un aspetto educativo. Non è soltanto un progetto economico, potrei definire, ma c'è un progetto educativo molto forte. Credo che da questa conferenza sia venuto forte un messaggio. C'è bisogno di un forte progetto educativo per una società sostenibile della nazione, dei territori, dove c'è una fortissima necessità e richiesta. Qui c'è la centralità della scuola, fondamentale, ma la scuola non può essere lasciata sola. Il Sistema Nazionale d'Educazione Ambientale, quello che ho conosciuto io, e immagino ancora di più quello che sarà, dove spero ognuno di noi darà il proprio contributo, ha un elemento forte di partecipazione, dove la scuola richiede e deve richiedere di potersi confrontare sia con l'educazione formale, che è proprio il compito, diciamo, prioritario della scuola, ma soprattutto con quello che è l'informale e non formale. Pensiamo tutto al mondo del digital di cui parlavamo prima. Assolutamente. E le imprese in questa cosa qui giocano un ruolo fondamentale. Non sono più soltanto quelle che vanno controllate, il command control famoso, ma sono quelle che collaborano, per esempio, col sistema delle agenzie, con il governo, con gli amministratori locali, con le organizzazioni non governative, a creare, come dire, territori sostenibili. Intervistando tanti imprenditori che hanno a che fare con la green economy, molto spesso ho sentito una carenza, da parte del mercato del lavoro, di giovani specializzati, proprio però in tematiche scientifiche o comunque tecniche che abbiano a che fare con l'ambiente. Quindi, dato che abbiamo una platea e tanti ragazzi ci stanno guardando su YouTube, sul canale dell'ISPRA, magari invitiamoli a conoscere, approfondire le tematiche ambientali, anche, non soltanto ovviamente, non è un aspetto funzionale, proprio perché è una grandissima opportunità di lavoro e lo sarà sempre di più. Certo, questo è un elemento interessante. Prima Mr. Thompson citava delle negatività e anche delle positività. Io dico che una positività grande, per esempio in questa sala, che siamo pieni di ragazzi. Cioè, sembra, come dire, abbastanza scontato, ma le cose scontate spesso non lo sono. Noi stiamo costruendo un futuro. In questo momento, in questa sala, ieri, in questi giorni, io citavo la 132, perché a noi del sistema nazionale ci tocca da vicino, ma che è, come dire, un patrimonio del Paese. Noi abbiamo questo Paese importante. Quindi, da un lato c'è sicuramente la necessità di rivitalizzare i curricula. Questo non c'è dubbio. Ci sono anche sensibilità diverse, sia all'interno del mondo della scuola che all'interno del mondo universitario. Sicuramente c'è la necessità di non parlare solo di contenuti, di discipline, ma c'è bisogno, come dicevamo prima, di competenze che sono altre. A Genova, sicuramente, anche oggi, dopo 16 anni, si parla di competenze al futuro. Ma le competenze al futuro non sono soltanto una bellissima frase che ci colpisce tutti, perché abbiamo bisogno di guardare al futuro. E soprattutto dire quali sono gli strumenti con cui costruire le competenze per il futuro. Quali sono le sfide che ci troviamo. Quindi, da un lato c'è sicuramente un discorso di rafforzare il curricula, da un lato. Quindi, competenze solide. Ma dall'altro di non dimenticare che non bastano soltanto il conoscere, ma bisogna fondamentalmente avere la possibilità di scommettere, secondo me. Ci sono questi due aspetti fondamentali. L'altra cosa che mi viene in mente, che appunto, leggendo i contributi di tutti quanti, è che, diciamo, c'è un punto, come dire, di trasformazione che è importante. Non lasciare nessuno indietro. Eh, bel tempo. Che è una cosa che posso dire... Ovviamente non solo a livello italiano, a livello mondiale stiamo ragionando. Infatti, uno dei punti che è stato dibattuto, dove anche la dicotomia tra locale e globale è una dicotomia che va superata. Oggi, soprattutto con un certo tipo di fenomeni migratori, che sono sotto gli occhi di tutti, il globale ce lo abbiamo in casa. Quindi non dobbiamo andare molto lontano. Quindi il confronto tra culture lo possiamo realizzare qui. E questo, ovviamente, come tutte le cose, può essere visto anche dal punto di vista della ricchezza. Quali sono gli strumenti di educazione principali che sono emersi? Cioè, le modalità? Cioè, non so, laboratori, uscite? Cioè, quali sono stati suggerimenti? Allora, sì, ci sono state indicazioni le più diversificate, perché, come dicevo, i tavoli poi erano, come giusto che sia, orientati a secondo dei presenti, no? Se erano solo comunicatori. Ok. Quindi, sicuramente ci sono stati, da parte di tutti i tavoli, da quello che è emerso e che ho potuto leggere, questa necessità di declinare in maniera un po' più precisa e anche un po' più condivisa le cosiddette buone pratiche. Spesso le terminologie restano molto affascinanti, ma, come dire, un po' teoriche, potrei dire così. Quindi, che cosa vuol dire fare buone pratiche? Quello che dicevo prima, la necessità di avere una piattaforma, che è uno strumento, sicuramente, ma uno strumento che va ripeto di contenuti. Diciamo, io parlo di noi che abbiamo questa lunga esperienza in educazione ambientale, uno dei punti fondamentali è capire che le buone pratiche non sono soltanto degli strumenti operativi e applicativi, ma hanno sempre necessità di essere riempite di contenuti e di senso educativo di quello che stiamo facendo. Quindi, questo è sicuramente, non basta dire buone pratiche, ma abbiamo bisogno di capire che cosa viene fatto. Quindi c'è una critica, per noi stessi, e una necessità di rilanciare la necessità di avere delle buone pratiche, che spesso sono soltanto delle soluzioni che io chiamo pret-à-porter, in qualche modo. Cioè, nel senso, immediate, che vanno benissimo. Ognuno di noi, credo, in questa sale abbia avuto l'esperienza molto lunga di fare i progetti sui rifiuti, che credo sia stato un tema che, comunque, ancora oggi, il problema non è soltanto gli strumenti attraverso cui realizziamo una buona differenziata, per essere molto banale, ma quali sono le motivazioni attraverso cui la realizziamo. Quindi, l'educazione lavora sempre su questi due temi. Quindi, rivivificare o rilanciare il problema delle buone pratiche attraverso un confronto serrato nei territori, prima citavo le aziende, il sistema produttivo, perché, per esempio, è dalla grande distribuzione che nasce la necessità di non avere, per esempio, una quantità esagerata di rifiuti. L'educazione non è mai un'attività isolata. È un'attività partecipata e che richiede l'intervento di tutti. È chiaro che lo sforzo di chi, come in questi giorni o come ieri, si sta operando, ha operato, si pone le domande di come costruire, diciamo, gli orientamenti. Credo che il governo in questo, non a caso, ha organizzato una conferenza, perché lo stesso governo italiano, la stessa Unione Europea, ha bisogno di capire dove andare. E in ascolto del territorio, e se mi posso permettere, anche di noi, che stiamo operando in questo settore, credo che ci siano degli indirizzi che verranno, se no non ci sarebbero stati 12 tavoli che parlavano così animatamente. Erano animati? Eravamo tutti insieme, per cui era anche un esercizio di, come dire, rispettare l'altro, abbassare la voce e ascoltare. Tra l'altro, l'educazione ai più giovani è un motore di educazione, perché, come sappiamo, ormai molto spesso sono i bambini che vanno a casa dai genitori e gli insegnano no, questa l'ha buttato questo rifiuto sbagliato. Quindi sono veramente portatori sani di cambiamento a tutti i livelli, poi, della società. Sicuramente i ragazzi che sono qua, i bambini, sono portatori sani. Attenzione. I bambini non li vedi, sono ragazzi. Ragazzi, ma bambini anche. No, dico, attenzione, attenzione. Sicuramente questo è vero. Teniamo conto che però i bambini sono, come dire, anche uno degli oggetti preferiti dall'economia, nel senso, per il consumo. Quindi bisogna operare attraverso, come dire, una presa di coscienza che il consumo, come dicevi tu prima, passa attraverso gli stili di vita. Questo è un punto, cioè non basta dire, siccome i bambini sono portatori di buone pratiche ingenue, non so come definire, comunque di atteggiamenti positivi non sono corrotti, come dire, dal processo della vita, non sono negoziati, io li chiamo, però sono anche oggetto di una forte, come dire, presa da parte di un'economia che li vuole utilizzare. Basta guardare la pubblicità. Qui non c'è una croce nei confronti dell'economia, ma in questi tavoli si è discusso su come orientare anche il rapporto, lo dicevo prima, con chi fa un'economia sana del Paese, con chi si verrà portati per aiutare a fare un'economia sana del Paese, che è un punto fondamentale. L'Europa, credo che il mondo internazionale, ci sta dicendo che la cosiddetta via verde dell'economia non è soltanto uno slogan per un'elite, ma diventa un'impellente risposta per un processo di sostenibilità collettivo. Uno dei temi affrontati dai tavoli che mi ha colpito molto è quello legato alla salute e all'ambiente, nel senso che finalmente si parte dal presupposto che tante patologie da noi in Occidente e in Italia sono collegate a un malessere ambientale. Quello che mangiamo, quello che beviamo, quello che respiriamo, quello che ci mettiamo addosso è una delle principali, se non la principale a questo punto, fonte di malessere. Beh, allora, il rapporto tra ambiente e salute credo che sia, come dire, non solo sotto gli udicchi di tutti, però va rimarcato. Cioè è un elemento che non può essere dato per scontato, mai, come qualsiasi tipo di relazione. Chiunque, credo, che abbia un'esperienza e anche una responsabilità, nelle agenzie noi vediamo costantemente questo tipo di problematiche, anche nei confronti della città, fai conto che, credo, che nascono comitati giustamente anche nei territori per rivendicare il diritto alla salute. C'è un rapporto fortissimo. Però si parla sempre di inquinamento outdoor, mai di indoor. Voi avete inserito anche questo concetto che quindi è legato ai prodotti, per esempio, che utilizziamo per la cittura della nostra casa o anche a quelli della polizia. Non ne parlano in tanti. Esatto. Diciamo che i problemi sono molteplici. Ci sono degli aspetti fondamentali da tenere in conto. Allora, il primo, lo citavo prima, il discorso della globalizzazione, le cosiddette filiere, insomma, portano sicuramente dei problemi molto grossi. Cioè, non è vero e non basta soltanto che noi abbiamo delle buone pratiche all'interno del nostro territorio nazionale, ma è fondamentale che si lavori a livello internazionale sulle filiere. Questo è un punto essenziale. Perché, ovviamente, i portati... Faccio un esempio molto concreto. Una cosa che ho letto su uno dei tavoli che, ovviamente, sono stime dell'OMS, quindi non sono numeri che vengono dati a casaccio, circa un terzo, barra, un quarto delle affezioni e delle patologie di vario tipo di natura sono dovute a cause ambientali. Aggiungo di più che il numero dei migranti ambientali sta aumentando in maniera spaventosa. Quindi, che cosa vuol dire questo? Anche se non c'è una definizione ufficiale. Esatto. Diciamo che, a livello internazionale, si sta cercando anche di capire quali sono le cause e le motivazioni. Perché, mentre un certo tipo di migrazione, che è dovuta, per esempio, a cambiamenti di carattere politico all'interno di un paese, il tema ambientale, non so se il Presidente dell'ISPR è d'accordo, è un po' più sfumato, potremmo dire così. E molto spesso è la base, il territorio su cui nascono poi problematiche... Ci sono territori, e questo lo conosco perché il nostro impegno all'interno appunto della mia struttura, dell'Arpa Fili Venezia Giulia, ma anche di altri colleghi, è quello di aver visto anche in pochissimi anni, parlo di pochissimi, nel senso in termini proprio stretti, dieci anni, ci sono territori che hanno avuto delle trasformazioni profonde. Proprio la sussistenza di quei territori è venuta meno. È giocoforza che c'è stata una migrazione o all'interno dello stesso paese o come spesso accade al di fuori dello stesso. Quindi c'è, come dire, una tematica, direi, molto forte in questo senso. L'altra cosa che volevo dire all'interno dei tavoli è sicuramente stato rimarcato questo rapporto tra ambiente e salute. Anche in questo senso le politiche educative non possono essere le politiche alla salute, le politiche all'ambiente. Devono essere politiche integrate, perché le politiche educative devono ottenere conto, per esempio, del rischio sanitario così come del rischio ambientale. Non sono due elementi disgiunti, rappresentano una visione, diciamo, un giano bifronte che deve necessariamente guardare contemporaneamente a queste due realtà. Grazie mille a Sergio Sicchensi, della Repubblica di Venezia Giulia. Grazie.